Grazie Presidente, una vittoria di misura del 51%, con 2 milioni e mezzo di schede contestate, molte convalidate persino senza timbro. Un franco che sta in giuridico con un accentramento abnorme di potere esecutivo nelle mani del Presidente, che potrà revocare ministri e piacimento, essere leader di partito, dichiarare lo stato di emergenza, nonché sciogliere il Parlamento a sua discrezione senza contrappesi. Grazie a censura, purghi e abusi, Erdogan ha realizzato il sogno del cassetto, diventare di fatto il sultano della Turchia, facendo si beffe delle nostre raccomandazioni e lacerando il suo Paese in due. Mai come ora è evidente che quella porta che avevamo tenuto aperta finora ci sia stata violentemente sbattuta in faccia. Erdogan sorride pensando che l'Europa debole e codarda che ha siglato l'accordo illegale sui migranti al prezzo di 6 miliardi chiuderà gli occhi anche stavolta. Ci vorranno anche le prime condanne a morte? O avrete il coraggio finalmente di bloccare la candidatura e fondi per adesione e inviare un vero sostegno alla società civile turca, magari usando la leva dell'Unione doganale? Essere membro della Nato non basta e non giustifica. Il tempo delle chiacchiere è finito.